Ho riflettuto molto nelle ultime settimane, sono giunto ad un'importante decisione, lascio il mio mandato di assessore della Regione Calabria e quanto afferma in una nota Mauro Dolce, assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici della Regione Calabria, che annuncia le proprie dimissioni dalla carica. Ho comunicato la scorsa settimana la mia decisione al Presidente Roberto Chiuto, aggiunge, e di comune accordo abbiamo deciso di darne notizia. Dolce informa di voler rientrare nell'università per riprendere e concludere le attività di ricerca temporaneamente messe da parte, che insieme agli impegni familiari gli impedirebbero di svolgere nei modi opportuni gli impegni dell'assessorato affidatogli. In accordo con il Presidente Chiuto, prosegue Dolce, continuerò ad offrire alla Regione, nelle forme più opportune, la mia esperienza e le mie competenze su determinati progetti strategici che riguardano le infrastrutture della Calabria.